Come evitare B12? Una carenza di vitamina B12 può portare a una pletora di sintomi, che vanno dai fastidi fastidioso per danni neurologici permanenti. Se una carenza di vitamina B12 è consentita persistere, può contribuire ad anemia, in cui il malato ha un conteggio pericolosamente basso di globuli rossi. Una carenza di vitamina B12 può anche portare a problemi neurologici, anche se non si sta anche soffre di anemia. Incredibilmente, la carenza di vitamina B12 probabilmente colpisce tra il 1,5 e il 15% della popolazione adulta degli Stati Uniti. Monitorare la vostra dieta e la salute al fine di garantire una diagnosi precoce di eventuali carenze vitaminiche, il trattamento di una carenza di vitamina B12 prontamente attenuare gli effetti dannosi sulla vostra salute. Il mantenimento di sani quantità di vitamina B12 Mangia il valore giornaliera raccomandata di vitamina B12. I valori giornalieri sono valutati in base alla dose giornaliera raccomandata approssimativa di una specifica sostanza nutritiva per un adulto sano. Per la vitamina B12, il valore giornaliero è 6,0 mcg. Se si consumano carne tutti i giorni, è molto probabile che già consumano tale importo, tuttavia, l'assorbimento della vitamina B12 può essere complicata da diversi fattori. In ogni caso, monitorare la vostra dieta per assicurarsi che stai ricevendo abbastanza vitamina B12. Mangiare cibi ricchi di vitamina B12. Ci sono diversi prodotti di origine animale e alimenti arricchiti che sono fonti di elevate quantità di vitamina B12. Pesce e frutti di mare, carne, uova, latticini sono particolarmente buone fonti. Se sei un vegetariano, optare per i cereali o lieviti nutrizionali che sono stati fortificati con vitamina B12. Vongole e fegato di manzo contengono ciascuno più di 10 volte il valore giornaliera raccomandata di vitamina B12 in un unico servizio a tre once. Troteiridea, salmone del Pacifico, e il tonno sono i prossimi tre fonti naturali di cibo con il più alto contenuto per porzione. Se siete vegetariani, mangiare una porzione di un cereale colazione che contiene il 100% del valore giornaliero di vitamina B12 ogni giorno. Monitorare l'assunzione di vitamina B12 da vicino in gravidanza o allattamento. A parte le decisioni di stile di vita, come non mangiare carne, ci sono altri fattori che aumentano la necessità di consumare più vitamina B12. Per esempio, se si ha una dieta povera come un bambino, o che sono attualmente in stato di gravidanza o allattamento, è necessario monitorare attentamente l'assunzione di vitamina B12. La dose giornaliera raccomandata di vitamina B12 per una donna incinta è 2.6 mcg, e 2,8 mcg al giorno per una donna che allatta. Questi dovrebbero essere considerati importi minimi di consumare tutti i giorni. Se state pensando di rimanere incinta, si dovrebbe prendere in considerazione l'assunzione di vitamina B12 un mese prima si prevede di concepire. Scegli una vitamina prenatale con 400 di acido folico. Mostra il tuo medico le vitamine prenatali per assicurarsi che è giusto per te. Ricordiamo che il valore giornaliero raccomandato per un adulto sano, che riflette meglio il rapporto tra porzioni di cibo e l'accesso alle sostanze nutritive che forniscono, è 6,0 mcg. Prendere un integratore vitaminico. Se sai sai che non stai incontro il valore giornaliera raccomandata di vitamina B12 o di altre vitamine, prendere in considerazione un multivitaminico. Mentre mangiare una dieta sana è un modo migliore per ottenere le vitamine vostro corpo ha bisogno, multivitaminici sono una buona opzione se la vostra dieta è limitato. Si rivolga al medico se non siete sicuri su quali tipi di vitamine da prendere, e se questo può essere l'approccio migliore per garantire che stai ricevendo sostanze nutrienti sufficienti. Sappiate che la vostra capacità di assorbire la vitamina B12 da un integratore alimentare è limitata da contenuti naturali del vostro stomaco. Ad esempio, prendendo un supplemento mcg500 per via orale solo portare all'assorbimento reale di solo circa il 10 mcg di vitamina. Oltre agli integratori per via orale, è anche possibile ottenere compresse o pastiglie che si dissolveranno sotto la lingua, e anche integratori liquidi. Mentre mezzi diversi si dice per fornire una maggiore biodisponibilità, non vi è una notevole differenza tra la capacità del corpo di assorbire WS. Ora le forme sublinguali di vitamina B12. Evitare di fumare e bere con moderazione. Sia l'alcol fumare e di bere può interferire con l'assorbimento di vitamine e contribuire a varie forme di anemia da carenza legati. Se fumate, iniziare il processo di smettere di parlare con il medico circa le opzioni per aiutare a fare così. Bere uno o due bicchieri al giorno, al massimo. Riconoscere i sintomi e fattori di rischio. Guarda per lievi sintomi di carenza di vitamina B12. I sintomi che possono indicare il vostro corpo è carente di vitamina B12 può includere vasta disagio. Mentre questa carenza può portare a problemi gravi che coinvolgono la salute cardiovascolare e la funzione cognitiva, sarà anche i livelli di energia al giorno e la resistenza fisica. In termini di energia, si può sentire stanchi, incapaci di concentrarsi, a corto di fiato, e anche di testa leggera in posizione retta o dopo l'attività fisica. Si può perdere l'appetito, e la pelle può diventare più pallido del solito. La lingua può gonfiarsi e arrossare, e le gengive può sanguinare più facilmente. Si può soffrire di diarrea o stitichezza. Conoscere le cause naturali di carenza di vitamina B12 Oltre ad una carenza alimentare che porta a una quantità insufficiente di vitamina B12, ci sono diverse condizioni di salute che riducono la capacità del corpo di assorbire il nutriente, e, quindi, può anche mettere a rischio maggiore. Se una di queste condizioni mediche si applicano a voi, assicuratevi di conto per il loro effetto potenziale sull'assorbimento nutrizionale. Ci sono cinque cose che devono accadere per l'assorbimento di B12. Questi includono la dieta alimentare, l'acido pepsina nello stomaco per liberare B12 dalle proteine, proteasi pancreatiche per liberare B12. Secrezione del fattore intrinseco da cellule parietali, ed un ailo intatto che può assorbire intrinsic factor B12 complex. Essere consapevoli del fatto che tutte le malattie che complicano la digestione, tra cui Crono o la malattia celiaca, possono diminuire l'accesso del vostro corpo di sostanze nutritive. Fortunatamente, se queste malattie sono trattate correttamente, eventuali problemi di assorbimento di vitamina B12 può anche essere risolti. Si noti che l'anemia perniciosa, che colpisce fornitura di stomaco di una cosa chiamata fattore intrinseco, rende estremamente difficile per il vostro corpo per elaborare la vitamina B12. Il medico vi aiuterà a pianificare un regime di trattamento specifico se si sono trovati ad essere privo di fattore intrinseco. Rimanere alla ricerca di gravi sintomi di carenza di vitamina B12. Basse quantità di vitamina B12 per lunghi periodi di tempo può portare a problemi di salute molto gravi, tra cui danni ai nervi. I primi segnali di danni ai nervi includono depressione e altre alterazioni dello stato mentale, un diminuito senso di equilibrio, e un intorpidimento formicolio alle gambe o mani in piedi. Questi sintomi neurologici possono o risulteranno senza la presenza di anemia, che è una condizione del sangue. Attenzione per problemi neurologici, come l'intervento precoce è fondamentale per evitare danni potenzialmente irreversibili. Riconoscere gli effetti che alcuni interventi chirurgici e comportamenti possono avere. In relazione a, sa che l'uso abituale di antiacidi e o farmaci bruciore di stomaco può anche portare a complicazioni per quanto riguarda l'assorbimento della vitamina. Uno degli aspetti più integrali di recupero da un bypass gastrico o altro intervento chirurgico che colpisce il sistema gastrointestinale è garantire che il vostro corpo è ancora in grado di assorbire abbastanza vitamina B12. Assicurarsi che i conti il vostro regime dietetico per questa necessità a seguito di un intervento chirurgico, e sapere che si dovrà probabilmente anche a prendere integratori di vitamina B12. Se avete preso antiacidi o farmaci bruciore di stomaco per un lungo periodo di tempo, assicurarsi che il medico sa su questo quando si parla con loro di una potenziale carenza di vitamina B12. Trattare una carenza di vitamina B12. Consultare un medico per una valutazione professionale. Se siete preoccupati per il vostro apporto nutrizionale o tutti i sintomi ricorrenti che possono essere correlati alla vitamina B12 anemia da carenza, consultare un operatore sanitario nel più breve tempo possibile. Uno dei primi esami che riceverete è un esame fisico per garantire che non ci sono problemi con i tuoi riflessi. Altri test importanti che si dovrebbe parlare con il medico sono il vostro esame emocromocitometrico completo, il valore dei reticolociti, il livello di proteine LDH, e il vostro livello di vitamina B12 reale. Le cause di carenza di vitamina B12 includono anemia perniciosa, gastrectomia o gastrite, H. Pylori, età, disturbi intestinali, infestazione da tenia, farmaci, assunzione con la dieta inadeguata, e l'infezione da IV. Scegliere un'opzione di trattamento in base alla causa del difetto. Se non ci sono complicazioni di salute che rendono più difficile per il vostro corpo per elaborare la vitamina B12, si può probabilmente sufficiente aggiungere più di questa sostanza nutriente per la vostra dieta. L'obiettivo di ogni tipo di vitamina trattamento carenza di vitamina B12 è quello di aumentare i livelli di vitamina B12. Questo può solo richiedere cambiamenti nella dieta. Le opzioni di trattamento che il medico può raccomandare includono anche alte dosi di compresse di vitamina B12, o anche iniezione di vitamina B12. Ottenere iniezione di vitamina B12. Se si dispone di una complicazione medica o stile di vita che impedisce l'assorbimento del vostro corpo di nutrienti, le iniezioni sono una strada percorribile per garantire la si sta ancora ricevendo il vitamina B12. Vostro corpo ha bisogno. Ancora una volta, la capacità del corpo di assorbire la vitamina B12 è il fattore primario nel determinare se queste iniezioni sono una forma necessaria di trattamento, come l'assunzione di integratori di vitamina B12 per via orale e un trattamento adeguato per la maggior parte dei pazienti. Se il medico lo ritiene necessario per ricevere iniezioni, sapere che potrebbe essere necessario diverse iniezioni entro i primi mesi di trattamento. Dopo alcuni mesi di trattamento, è probabile che sia necessario un colpo al mese, potenzialmente per il resto della tua vita.